buongiorno a tutti benvenuti alle cronache dal fronte liberista oggi puntata frizzante ma di più di più perché io e a menta abbiamo trovato il modo per diventare ricchi ricchissimi più che col cashback molto di più che non ci siamo riusciti ancora infatti come forse avete sentito ieri commissario all'emergenza arcuri ha annunciato un'app in cui caricheremo la nostra carta di credito per ricevere un bonus qualora fossimo vaccinati bonus vaccino bonus vaccino non l'ha detto no non lo so a me mi sembra una minchiata però va bene ah no perché scrivi confondevo perché pensavo a capone è venuto in mente arcuri no in realtà in realtà la proposta luciano ma proprio così si doveva annunciare la sbalzata luciano e spoiler sulla puntata dagli nemici mi guarda guarda io dagli amici guarda arcuri no il nostro amico domenico capone ha scritto sul foglio qualche giorno fa un un articolo che come dicono quelli che hanno studiato è provocatorio mentre io a mente l'abbiamo preso sul serio noi siamo lì a battere cassa noi siamo lì anche luciano l'ha preso sul serio e te che non hai capito che era sul serio allora madonna non abbiamo ancora cominciato già già ci azzanna la sera veramente allora luciano capone non bisogna presentarlo lo conoscono tutti giornalista del foglio commissario straordinario per l'emergenza venduto vendutissimo lavoratore dell'istituto Bruno Leoni e la proposta di questo articolo è sostanzialmente quella di proporre un'alternativa dopo una dotta di squisizione sulle ragioni teoriche diciamo la rava e la fava la introdurre un diciamo in alternativa all'obbligo di vaccino introdurre un premio per chi si vaccina luciano come cazzo tenuto in mente no diciamo si tratta di come ragionamento abbastanza semplice se vuoi che le persone si si vaccinino pagale abbastanza elementare era una proposta di una verità che è stata lanciata qualche mese fa negli stati uniti da greg manchio che è un economista molto famoso ed un altro economista da brooking institution robert litan parlavano teoricamente insomma il ragionamento è visto che ciò che serve è l'immunità di gregge per raggiungerla prima il modo migliore per farlo è dare un incentivo alle persone e pagarle in effetti vedendo il successo che ha avuto il cashback c'è successo diciamo non non diciamo di realizzazione con tecnologico diciamo ma la risposta che c'è stata da parte degli italiani sono state diciamo caricati mi pare 2 milioni di carte di credito ma si è impallato il sistema 8 milioni avevano scaricato l'app per farlo strano perché di solito non si impallano mai queste app capita è una regola diciamo che si sa che che funziona così è proprio nel protocollo cioè quando c'è una basterebbe chiedere prima aiuto a pornav il problema si risolverebbe se gli chiedevano di tutte le carte di credito che sono caricate là degli italiani io non ho capito scusa posso aprire chiudere una parentesi che c'è franceschini vuol fare l'amazon italiana quell'altro la netflix italiana pornav italiana ne frega niente a nessuno la proponiamo io e stagna e vabbè diciamo c'è stata molta lo avete messo in difficoltà milioni di persone hanno scaricato questa quasi di 10 milioni quindi diciamo tantissimi hanno risposto a questo incentivo che di è un sussidio per chi paga con le carte di credito no va fino a 150 euro massimo 300 euro all'anno puoi arrivare massimo 300 euro all'anno più la lotteria poi c'è la super lotteria per chi per chi è più ossessionato agli acquisti i primi cento per le prime cento persone che scaricano di più che pagano di più insomma è un'operazione che costerà circa quasi cinque miliardi di euro questa del cashback e che darà tanti soldi anche a persone che avrebbero comunque usato le carte di credito che già usavano prima eh e in questo principio insomma il senso è eh perché non farlo per i vaccini lo facciamo per una cosa del tutto come dire marginale meno importante come eh sussidiare le carte di credito abbiamo sussidiato i monopattini eh le vacanze mh le auto elettriche mh dimenticherò qualcosa ma tantissime cose perché non farlo per le vaccinazioni eh il fatto è che diciamo a mio avviso la diciamo il la vaccinazione di massa e ottenere l'immunità di gregge la riforma strutturale più importante che dovrà fare eh l'Italia perché da un punto di vista sanitario vorrebbe dire diciamo eh salvare la la salute e la pelle a decine di migliaia di persone tra quelle che si ammalano quelle che si ricoverano quelle che vanno in terapia intensiva e e quelle che purtroppo eh muoiono e dall'altro è anche economicamente la riforma strutturale più importante perché è è questa diciamo pandemia questa questa epidemia che impedisce di consumare di lavorare e di fare investimenti quindi se avessimo come dire la vaccinazione di massa è ciò che ci fare ciò che è di più simile a un ritorno alla fase pre covid quindi questa è la cosa più importante eh in altre situazioni diciamo i vaccini sono gratuiti eh per per incentivarne l'uso e in tante altre c'è un obbligatorietà diciamo per per quelle eh insomma che si fanno nell'età eh diciamo dei bambini o o dei ragazzi in questa fase ci sono alcune criticità perché che rendono questa cosa più più complicata eh da un lato il fatto che c'è c'è molto più scetticismo cioè su questo vaccino perché è stato fatto tutto molto rapidamente eh e diciamo spiegare perché è stato fatto in maniera accelerata cosa diciamo è stato no ehm quali procedure sono state semplificate in realtà fa sembrare le persone che non sia poi così tanto sicuro c'è un come dire un po' un po' di scetticismo l'obbligatorietà è molto più complicata perché per le altre vaccinazioni avviene appunto per i bambini dove decidono i genitori eh ed è legata a una specifica attività quello di andare a scuola che non c'è per tutto il resto della popolazione e poi c'è un tema di di tempi cioè diciamo l'obbligatorietà quando sono tantissime essere scettici può essere controproducente e comunque può rallentare molto questo tipo di vaccinazione siccome i vaccini questi qui sono molto complicati per la somministrazione c'è bisogno di un'adesione eh diciamo una precisione anche nei tempi nel presentarsi perché questi vaccini rischiano di scadere c'è bisogno di essere puntuali di essere precisi perché bisogna fare una vaccinazione cosa mai potrà andare storto quindi ci servirà un'adesione cioè una partecipazione convinta e i ritardi possono danneggiare diciamo il raggiungimento di questo obiettivo che avere una copertura del settanta ottanta per cento quindi posto che eh servirà una distribuzione efficientissima che è molto molto complicata abbiamo parlato e questa è fidata al commissario Arcuri e quindi non abbiamo motivo di dubitare ma no ci mancherebbe anzi stiamo in una bocca di ferro quel quel punto mi pare che è risolto diciamo quello è risolto la parte logistica o comunque prendiamolo per risolto prendiamo prendiamolo per comunque è essenziale e l'altro è una campagna di comunicazione di informazione eh importantissima per quindi non è che vuoi convincere le persone con i soldi ma servirà una campagna di comunicazione spiegare cosa sono i vaccini come funzionano eh e perché sono sicuri e perché sono efficaci ma tutto questo non potrebbe non bastare a questo punto si può provvedere un bonus eh da una cifra diciamo come dire una cifra tonda da cento euro per chi si vaccina per il disturbo diciamo per il tempo per come dire per per il fatto di dover andare a vaccinarsi con un meccanismo che può essere di questo tipo diciamo metà eh bonus al momento della vaccinazione e l'altra metà eh solo se se quando ti sarà raggiunta la la copertura di eh di massimo così uno rompe pure i coglioni agli altri ai amici importa un amico e ti diamo gli altri cinquanti e questa è più o meno la la proposta poi potremmo parlare se volete dei costi delle motivazioni anche un po' economiche ma beh tu fai anche una stima e dici più o meno ci costerebbe quanto il cashback un po' di più anche un po' un po' di meno forse anche un po' di meno nel senso perché cento euro su sessanta milioni di italiani sono circa sei miliardi naturalmente molte parti della popolazione sono proprio escluse non potranno farlo non so fino agli adolescenti bambini quindi sono da togliere molti altri probabilmente per patologie pregresse eh possono non farlo quindi se si arriva a una copertura del settanta per cento eh o dell'ottanta anche dell'ottanta per cento si arriverà sotto i cinque miliardi che è più o meno eh quella la città del cashback. Ma i soldi non sono un problema. Non sono un problema. Arcuri i soldi non sono un problema. Esatto. Con questo potremmo anche chiudere ma prima di passare la parola a Serena Sileoni la quale di fronte a questa eh stupenda proposta che Luciano ci ha raccontato ha portato delle obiezioni serie da seria giurista e costituzionalista eh che io e Stagnaro abbiamo apprezzato ma che forse dovremmo apprezzare meglio mi permetterete soltanto di dare eh il senso di questa proposta da un punto di vista economico cioè quello che io e Carlo sosteniamo è che questa proposta è una proposta particolarmente intelligente non per soltanto perché vorremmo cento euro che è il motivo per cui voi potete pensare che la caldeggiamo ma perché in realtà si tratta di correggere eh di favorire quello che è proprio una esternalità in questo caso positiva di un comportamento quindi l'obbligo sostituire l'obbligo che ha tutti i problemi che dice Luciano e resta comunque un obbligo di fronte alla libertà individuale di fare o meno un determinato atto il sussidio funziona e agisce come una tassa piguviana positiva cioè il beneficio individuale del vaccinarsi non ammalarsi viene apprezzato dal singolo individuo in maniera distorta perché non solo lui quando si vaccina un beneficio personale ma ha anche un beneficio sociale cioè fa in modo che la malattia non si diffonda però nel momento in cui paragona il beneficio del vaccino con il suo costo cioè con la paura che dice Luciano di non avete fatto troppo presto e devo scaricare l'app farmi lo speed per riuscirlo a fare mi rompe i coglioni andare all'asp perché c'è fila mi spavento e così via lui paragona il suo costo col suo beneficio individuale e però dimentica in questo modo il beneficio della società se internalizzasse dicono gli economisti il beneficio sociale il suo beneficio complessivo sarebbe più elevato e quindi probabilmente si vaccinerebbe la proposta che Luciano ci ha raccontato non fa altro che internalizzare rendere monetizzare questo beneficio sociale e ingrandisce allarga aumenta il beneficio individuale di fronte ai cento euro io sommo i cento euro e il mio beneficio individuale del vaccinarmi e supera il costo di andare a vaccinarmi questo migliora chiaramente l'adesione e quindi a noi sembra Carlo eh dimmi correggimi se ho detto una cosa sbagliata che rispetto all'obbligo che a noi devo dire da un punto di vista teorico non fa neanche tanta impressione proprio perché come Carlo ricordava l'altro giorno di fronte a delle esternalità il lo Stato può intervenire non è obbligato a farlo il sussidio ci sembra eh uno di quei nudge eh di cui Taler e Sunstein ci hanno parlato così bene nel loro libro la spinta gentile che tutto sommato ci sembra il male minore però io al limite avrei l'obiezione opposta ma ne parliamo dopo ecco però lasciamo invece a Serena eh i motivi per cui secondo lei da un punto di vista giuridico e quindi da un punto di vista più che pratico importante perché senza senza l'ok dei giuristi noi non facciamo più un cazzo e per quale motivo diciamo questa proposta ha dei difetti non avete fatto mai non più no ma è che voi ma noi non faremo mai nulla senza giuridico questo è un paese in mano ai giuristi e i risultati si vedono infatti ma infatti io sono d'accordo nel senso che la proposta è eh io l'ho detto subito a Luciano è è assolutamente efficiente direste voi eh non non c'è dubbio che sia più efficiente sia per spingere il comportamento individuale a conformarsi diciamo a una a a una a una regola ehm che ha esternalità positiva appunto eh sia dal punto di vista economico io sono sicura anche senza andare a fare eh col eh proprio col bilancino i calcoli sono sicura che convenga per tanti motivi anche rispetto alla convenienza dei costi pubblici dei eh giudizi nel caso in cui si si abbia l'obbligo vaccinale mi spiego se mai si dovesse essere spinti a vaccinarsi per un obbligo e non per un incentivo sono sicura che dato il 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 contesto in cui nasce questo vaccino e la diffidenza come diceva Luciano sono sicura che si avvieranno un sacco di azioni legali che costano perché i tribunali devono eh i giudici devono occuparsi di questo anziché occuparsi di altro quindi sono sicura che sia assolutamente efficiente da un punto di vista economico quello che vorrei prima di farne non una provocazione perché io l'ho preso davvero sul serio la proposta ripresa da Luciano ma una cosa che sia una proposta che sia inattaccabile vorrei fare l'avvocato del diavolo e provare insieme a voi insieme a chi vi pare a smontare da avvocato del diavolo argomenti che non siano di natura che non abbiano per obiettivo l'efficienza e quindi argomenti anche giuridici cioè è una proposta fattibile non ne sarei così sicura ehm non non chiamiamola c'è c'è un'espressione eh assurda eh tra i giuristi che si chiama merito costituzionale che è uno simoro perché è una questione di 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 legittimità no oppure è una questione di merito politico c'è però anche una una un limbo che si chiama appunto merito costituzionale dove ricadono tutte quelle cose che ehm ehm suonano un po' male dal punto di vista dei principi che ci fanno stare che si presume ci facciano stare insieme non che ci fanno stare insieme a mente a questo abbiamo parlato anche ieri non che ci fanno stare insieme nel senso in cui ci crediamo però servono a reggere il sistema anche se fittizi il principio per cui io pago le tasse il principio per cui io pago le tasse è ovvio che noi paghiamo le tasse perché non vogliamo pagare di più tra sanzioni e interessi eh però è eh imprescindibile immaginare che la società sia basata su un obbligo sociale di pagamento delle imposte se no le cose non funzionano dal punto di vista dell'architettura ok ma c'è che è un'architettura che ha dei risvolti pratici è l'architettura per cui per esempio la settimana scorsa la corte costituzionale sulla base proprio di questo principio ha dichiarato incostituzionale l'indeducibilità dell'imu per l'anno mi pare 2016 quindi sta restituendo in realtà soldi al contribuente ok quindi ci sono degli effetti pratici anche di quelle che sembrano macchinazioni esclusivamente teoriche detto questo quali sono i dubbi che vorrei fugare prima che questa proposta possa e io lo lo spingo luciano in questa in questo senso eh però mh lo invito come di a eh puntualizzare meglio quelle stesse eh a rispondere meglio a quelle stesse repliche che lui stesso si è fatto nell'articolo quali sono questi dubbi il primo perché ci si vaccina ci si vaccina per lo stesso motivo per cui si paga le si pagano le tasse e cioè da un punto di vista di tenuta del sistema ci si vaccina in risposta a un obbligo di solidarietà sociale se ci si vaccina in cambio di una controprestazione che in questo caso è un'erogazione in denaro da parte in denaro pubblico questo presupposto cade se cade questo presupposto cade un meccanismo che ripeto di tenuta della 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 comunità della società che sembra soltanto teorico ma vi ho fatto adesso l'esempio della di una di una di una sentenza in materia tributaria mh ha poi ripeto delle delle ricadute delle conseguenze pratiche allora il mio primo dubbio è questo possiamo introdurre un eh rendere accettabile un eh motivo eh alternativo ma proprio opposto rispetto a quello per rispetto all'obbligo il motivo opposto rispetto all'obbligo giustamente luciano dice questo evita di eh di di discutere dell'obbligo e lo dice in maniera positiva no evita tutte le mh magagne che avremmo se dovessimo discutere dell'obbligo ma proprio questo stesso motivo in sé ha una una risposta da dover dare in maniera molto eh molto approfondita e cioè possiamo accettare per la tenuta del sistema politico in senso ampio che eh quel le prestazioni a cui siamo chiamati per obblighi di solidarietà sociale diventino prestazioni a cui siamo chiamati esclusivamente per un obbligo per un'obbligazione mutualistica cioè per un do out des punto di domanda non sto non sono sicura che sia proprio una questione di come dire di di contrarietà a a ai principi costituzionali mh se volete specifico all'articolo due mh però mh un po' il dubbio ce l'avevamo sulla punta della lingua eh no lo dico per per due non ci sono ancora arrivato io lo dico per precisione perché vorrei la rima sul due e ma mica te l'ho chiesta sul cento trentanove no ho già detto che il prossimo articolo alla prossima pandemia esatto stavo per fare un gesto detto questo è il primo motivo e mh poi ci stanno ci sono dei motivi minori diciamo vado dal più grande a a quelli più più eh più specifici l'altro è che ehm la eh la gratuità della della prestazione cioè io è vero che qui eh l'ipotesi è completamente non è completamente diciamo è diversa rispetto alla vendita di organi perché ne parlavamo ieri con Luciano giustamente Luciano mi obiettava in quel caso c'è un atto di privazione del mio corpo no che è la stessa cosa che si può dire per le trasfusioni io mi privo di un po' del mio sangue poi un conto a privarsi di un rene o di una mano o di un occhio un conto a privarsi del sangue eh gli atti di disposizione sul proprio corpo in cambio di soldi sono vietati sono vietati per tanti motivi a me non piacciono dicono che sono motivi cattolici ehm ci piacciono non ci piacciono nel nostro nel nostro modo di pensare che non è soltanto italiano aumenta nel modo che avremmo detto un tempo occidentale eh le disposizioni sul proprio corpo dietro pagamento in denaro sono qualcosa di contrario al all'ordine pubblico al buon costume sono qualcosa che hanno una che ha una causa illecita e perché proviamo riprovazione per tanti motivi che sono anche religiosi o meglio che hanno una radice religiosa non ce le possiamo nascondere queste cose le nostre radici eh c'è una riprovazione eh ci ci ripugna l'idea che siccome abbiamo bisogno di soldi vendiamo il nostro rene questa idea ci ripugna in India non ripugna su questo voi mi insegnate c'è un sacco di letteratura economica che però non riesce a scalfire questo senso di ripugnanza che è qualcosa di tridimensionale rispetto all'efficienza ok e però esiste anzi proprio perché è tridimensionale forse anche il regalo in denaro eh invece quello che prende a menta se io vengo a casa tua invece di portarti una pianta mi inviti a cena la sera dico ah grazie ti do cinquanta euro tutti schifi però è la stessa cosa vabbè sto soltanto dicendo che ci sono delle cose che anche se efficienti possono essere per tradizione per cultura ripugnante però c'è una differenza no infatti sto dicendo vendere a fare un atto di disposizione del proprio corpo che ferisce il proprio corpo in cambio di denaro è ripugnante per noi almeno per la maggior parte di noi prestare il proprio non veramente evidentemente prestare il proprio corpo per iniettarsi un vaccino che è sicuro se è in commercio non ha evidentemente lo stesso grado di ripugnanza ma è comunque un atto di disposizione sul proprio corpo questo per dire l'altro diciamo il secondo il secondo dubbio e cioè è uno dei motivi per cui non si può vendere il sangue cioè quando si va a fare la trasfusione non ti danno nemmeno i soldi per la merenda ma ti danno la merenda è quello di disincentivare le persone a a guadagnare per quanto poco possa essere cioè a tornare ogni giorno alla al centro trasfusionale c'era un film correnato pozzetto che a un certo punto vende cos'era ecco vedi dovevo mettere quello come no non c'era quella volta mi ricordo che forse era correnato pozzetto che va a vendere un sacco di sangue mannaggia vedi dovevo mettere quello mannaggia era ragazzo di campagna ragazzo di campagna ragazzo di campagna o meglio o meglio luciano uno dei nostri migliori interpreti della costituzione e e quindi diciamo trovare una fonte di arricchimento personale che non sia il lavoro e questo è un tema che può ora ovviamente non è che si può iniettare più dosi di vaccino però è il tema di arricchirsi è vero che qui stiamo parlando di cento euro infatti secondo me la questione del quantum può essere qui apro lo spiraglio apro una risposta la questione del quantum luciano sta parlando di cento euro cento euro non sono mille euro non sono duemila euro e in più la dose di vaccino te la puoi fare una volta non puoi fartela due volte mentre il sangue te lo puoi te lo puoi togliere anche dieci volte se ci fosse un sistema del genere però comunque resta 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 questo dubbio che se vuoi appunto su cui abbiamo già risposto anche dal punto di vista del quantum dopodiché ci stanno delle 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 questioni altre due questioni una è una questione di ma anche questa secondo me superabile cioè di 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 beneficio di di equità nel beneficio nel senso che molte persone eh magari economicamente più bisognose non possono però accedere a questo sussidio perché non si possono vaccinare eh e questo è un tema al quale si può secondo me rispondere in maniera molto molto pacifica cioè eh eh situazioni diverse sicuramente diverse e poi l'ultima che è assolutamente superabile poi c'è un po' di cose ok l'ultima che è assolutamente superabile mi pare che luciano l'abbia già scritta nel suo nel suo articolo e cioè quella che il si può fare nel caso in cui soprattutto la mia prima la mia prima perplessità sia soltanto la mia e quindi sia infondata eh è evidente che lo stato debba avere una copertura assicurativa eh perché sta incentivando comunque un comportamento di cui siamo sicuri della cui sicurezza terapeutica vogliamo essere sicuri perché altrimenti il vaccino non sarebbe in commercio ma siccome credo che cioè deve comunque esistere una copertura assicurativa per danni eh per per danni ma questo ripeto sarebbe veramente l'ultimo dei problemi però c'è da saperlo cioè c'è da c'è da proporlo insieme se non sbaglio luciano l'aveva già scritto nel suo articolo ripeto la maggior parte delle 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 mie perplessità credo che sia assolutamente superabile la sulla prima continuo non ti dico che non ci ho dormito la notte luciano perché direi una bugia ma non sono diciamo la notte non mi ha portato consiglio ok io posso guardare scusa luciano no volevo dire un due obiezioni rispetto a quello che dice serena poi sentiamo ovviamente la risposta di luciano eh la la prima è che c'è una differenza sostanziale tra vendere un rene o anche solo vendere del sangue e farsi fare il vaccino nel senso che vendendo un rene o donando del sangue eh io mi privo di qualcosa cioè io ne esco in qualche modo indebolito tanto o poco facendomi fare il vaccino eh io ne esco più forte cioè il vaccino d'anzi tutto un vantaggio a me secondariamente rispetto alla tra virgolette discriminazione verso quelli che non se la possono fare eh ma domine iddio quelli che non se lo possono fare sono proprio i massimi beneficiari dal fatto che gli altri si vaccinino e quindi anzi dovrebbero dovremmo tassare l'oro per finanziare gli altri vuol dire che strignaro sta proprio domine iddio vuol dire che non stava diciamo l'altra versione poi mi veniva e quindi secondo me in realtà io capisco il ragionamento di Serena se stessimo parlando appunto della vendita del sangue della vendita degli organi temi su cui la penso come aumenta ma capisco che la costituzione più bella del mondo va un attimo adeguata ma su questa cosa del bonus vaccino invece non lo vedo il tema proprio perché il vaccino è una cosa che ha va comunque a vantaggio dell'individuo e va a vantaggio della società e la razio del bonus per il vaccino come per il monopattino almeno in teoria sta proprio nel remunerare il vantaggio sociale e non si è veramente fatico a capire perché possiamo remunerare il vantaggio sociale in tanti altri ambiti ti faccio lo sconto sulla multa se la paghi subito ti incentivo a prendere il vaccino ti do il bonus palestra che è una cosa molto simile al vaccino perché ti invito a prenderti cura del tuo corpo tenerti in forma eccetera come fa sempre a menta che infatti al fisico scolpito come potete vedere ma lo faccio perché penso che questo che ci sia un vantaggio collettivo nel fatto di avere una popolazione complessivamente più sana non capisco francamente la differenza rispetto al vaccino lascio la parola a luciano poi ho un'obiezione opposta in realtà no diciamo in parte quello che diceva serena un po ne parlavo nell'articolo riguardo le cosiddette transazioni ripugnanti e facevo proprio l'esempio diciamo di forse uno dei massimi studiosi è alvin roth che è il premio nobel per l'economia anche anche lì diciamo le transazioni ripugnanti sono diciamo un atto eh diciamo ehm una transazione economica rispetto alla quale terzi o in genere la società eh no prova prova ripugnanza o non accetta e per questo vengono in genere come dire proibite disincentivate o vietate e nel corso della storia cambiano tantissimo dal presto per interessi era quindi una transazione ripugnante secoli fa e e non lo è più e altre cose lo sono diventate probabilmente forse chissà eh il consumo di carne sta diventando in molti settori quasi una transazione ripugnante mentre prima era qualcosa diciamo di di irraggiungibile diciamo per per molti era desiderata e auspicabile e non si riusciva a consumarne perché c'è la povertà quindi un po le convenzioni sociali cambiano tanto però in questo caso rispetto agli esempi un po lo diceva Carlo della transazione diciamo del pagamento per la cessione in quel caso di organi non più ad un'azione o di plasma a sangue in quel caso la remunerazione va per per un sacrificio per una privazione eh mentre in questo caso appunto come diceva Carlo Menta per un'esternalità positiva quindi va a remunerare un beneficio eh usufruito da eh da terzi quindi è un po' diverso nel sentire comune potrebbe essere simile ma in fondo non lo è soltanto eh per il semplice fatto che lo Stato per le vaccinazioni impone spesso l'obbligo cosa che non potrebbe mai fare per la trasfusione di di sangue per la donazione del sangue o per la donazione degli organi proprio perché sono eh concetti completamente diversi e la sanzione è di fatto una tassa eh picuviana noi proponiamo qui si propone un incentivo però la concezione non è non è molto diversa lo Stato non potrebbe mai tassare chi non dona eh il sangue o tassare chi non dà un rene a a un parente magari che neppure tanto amato no? Cioè perché poi uno del rene lo dona al parente di esatto e quindi diciamo questo c'è c'è una c'è una diversità è vero che però diciamo la transazione monetaria può eh provocare diciamo un po' di ripugnanza eh perché remunerare un un atto eh civile e di come dire di dovere civile di senso civico che la gran parte degli italiani ha può creare questo tipo eh di ripugnanza in questo senso ci possesse anche dei dei correttivi ad esempio prevedere al momento della vaccinazione la possibilità per le persone di rinunciare al bonus e donarlo per un progetto sanitario del dell'ospedale nel territorio in cui si vive la costruzione di un reparto l'acquisto di un macchinario e penso che la gran parte delle persone magari quelle più ambienti non è detto no 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 potrebbero potrebbero diciamo preferire la donazione eh altri no rispetto all'altra obiezione questo era un po' sul sul lato diciamo etico rispetto all'altro che facevi sul eh pagare se è ammesso o non è ammesso forse diciamo perché dice non non c'è una fattispecie simile ad esempio per il sangue per altre prestazioni mediche forse quello a cui potrebbe avvicinarsi di più ed essere vista non come una remunerazione per un atto diciamo no come dire eh lavorativo ma come una specie di di rimborso il rimborso spese per come per il disturbo quasi cioè per come dire il eh andare all'orario prefissato nel luogo prefissato perché dovrebbe essere tutto molto scadenzato secondo le esigenze della macchina pubblica che organizzerà questo e in più ci sarà da dover fare necessariamente vista la l'accensione di massa tutta una una sorveglianza e una vigilanza successiva magari con analisi periodiche di cosa sta succedendo dopo per monitorare il senso della vaccinazione potrebbe essere simile questo a ciò che accade nelle sperimentazioni proprio dei vaccini e dei farmaci dove non è possibile non è previsto il rimborso il pagamento della prestazione ai volontari ma è previsto un rimborso spese perché ci si deve sottoporre a tutta una serie di analisi questo perché da un lato non si vuole incentivare la quindi la sperimentazione pagando le persone per farlo ma neppure la si vuole disincentivare non pagando dei costi che queste persone eh sopportano che sono dei costi anche come dire eh fisici la rinuncia ad altre cose da fare nel frattempo se la si mette come infatti anche per le sperimentazioni come nel caso dei vaccini non sono eh come dire rimborsi non pagano uno stipendio pagano dei dei piccoli rimborsi in questo caso diciamo con una giustificazione di questo tipo data l'eccezionalità della eh della situazione del caso potrebbe avere un un tipo di giustificazione eh quanto alla cosa che dicevi cioè sulla sulle sul fatto che ci sono persone che non hanno non ne hanno accesso eh anche in questo caso diciamo rientra nella fattispecie prima tu non lo fai perché non puoi farlo e e come dire intanto ne ricavi il beneficio perché tutti gli altri sono vaccinati però anche nel caso come dire delle altre vaccinazioni per quanto riguarda l'obbligo chi è esentato dalla vaccinazione non paga le sanzioni per come dire per non aver fatto la vaccinazione in questo caso non fa diciamo tutto questo percorso ne riceverà comunque benefici dall'immunità di gregge non riceverà il bonus ma vabbè insomma sarà contento comunque se hai fatto quello quelli spendono le inchiate tu regala pure agli altri bonus per i non vaccinabili bonus per i non vaccinabili e questo eh diciamo eh è un altro aspetto l'altro che dicevi sulla assicurazione dei degli eventuali possibili danni da vaccino in realtà diciamo siccome la vaccinazione di immunità di gregge la copertura vaccinale estesa è un obiettivo di politica pubblica sanitaria per tutte le vaccinazioni quasi quelle comunque eh consigliate rese obbligatorie che lo Stato dà anche gratuitamente c'è già una legge da danno da vaccino che copre tutte queste cose in genere accade in tutte le in tutti gli stati diciamo per diciamo siccome lo Stato consiglia obbligo rende grato diciamo a un certo punto copre con questa legge tra l'altro sarebbe ben da rivedere perché poi l'uso che ne fa la giustizia italiana è uno dei dei motivi per cui c'è l'antivaccinismo è recente una sentenza in cui la Cassazione ha stabilito che dei vaccini hanno causato la leucemia che è una bestemmia diciamo no una persona è stato dato un risarcimento da centocinquanta mila euro e e l'uso distorto da parte della magistratura della giustizia italiana della cultura giuridica italiana che è molto distante da quella scientifica eh induce diciamo una domanda di risarcimento danni completamente pretestuose infondate che alimenta lo scetticismo da vaccini perché poi c'è una sentenza che dice che il vaccino provoca la leucemia o il cancro l'autismo e questo diciamo forse è proprio l'uso distorto di queste norme diciamo che hanno una loro giustificazione ad alimentare eh la cultura antivaccinista una delle conseguenze indesiderate perché poi c'è tutto una quindi un esercito di consulenti legali medici e avvocati che eh come dire eh spingono le persone a fare questo tipo di cause e ogni tanto incredibilmente le vincono pure diciamo e quindi questi sono un po' un po' gli aspetti come dicevi tu che ovviamente siccome si tratterebbe diciamo se qualcuno la prende sul serio come hai fatto tu di fare una norma dovrebbe essere ben fatta e quindi sarebbe diciamo stupido non non pensarci. Io sono così sono così eh diciamo persuasa della serietà della proposta che eh io l'ho presa così anzi se vuoi lanciamo qui l'idea lanciamo qui l'idea di metterci sul serio sotto a fare una norma a fare una proposta ma io io volevo aggiungere lo dico seriamente sì sì intanto un intanto diciamo qualcuno mi ha risposto dal sul punto di vista questo più economico sul fatto di dire ma la gran parte delle persone avrebbe comunque fatto il vaccino quindi sono soldi sono soldi sprecati a parte diciamo che si potrà ammettere come dicevo la possibilità di donare di rinunciare questi soldi e tanti lo sarebbero quindi un recupero c'è però diciamo di questo principio non è mai interessato a nessuno per tante altre cose c'è eh il bonus ad esempio il cashback per le carte di credito anche in quel caso la gran parte eh com'è le bici anche in quel caso ma soprattutto per le carte soprattutto per le carte di credito la gran parte delle persone avrebbe comunque comunque comprato ma poi Luciano guarda tutti i sussidi guarda i sussidi nel sud nel vostro sud ecco ecco ma già in Inghilterra per esempio eh credo più di uno su tre non lo vuole fare non non è così scontato invece ecco posso dire un'ultima cosa su questo scusate se andiamo un po' lunghi però questo è un punto perché ehm eh allora secondo me diciamo che di di tutte le mie di tutti i miei dubbi ripeto il primo a quello anche io io l'ho detto anche io la la capisco benissimo la differenza tra eh un intervento sul proprio corpo che sottrae qualcosa anche se lo fosse energia fisica eh a uno che invece ti dà qualcosa questo e questo questo lo capisco tutto e regge tutto però resta il primo punto che Luciano ha accolto molto bene e cioè quello di scardinare l'idea di di un qualcosa che devi fare per scopo altruistico che è quello che tiene tiene in piedi la baracca c'è poco da fare ehm su questo mi convince eh a menta dove tu dici così ehm però dal punto di vista io l'ho sempre detto che l'altruismo è una fregatura ma io non lo dico cioè è la vasellina che permette agli altri di farti fare quello che vuoi essere una finzione quanto la baracca ehm e qui per esempio ecco la l'idea di Luciano di 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 consentire la devoluzione a scopo benefico per esempio può essere un buon ehm un buon una buona via d'uscita un buon escamotaggio tipo all'istituto Bruno Leoni bravi donate cento euro all'istituto questo fatto per per la cava all'asta io volevo soltanto no però non avevo volevo scusa scusa no però però resta scusami però resta ehm resta anche un'altra cosa che prima non avevo detto eh e cioè la mh fatti l'opportunità il momento politico di fare una roba del genere eh cioè ehm siamo sicuri che eh dal punto di vista della della fiducia della credibilità del piano di vaccinazioni questa roba tenga fondamentalmente il messaggio che passa questo mi è venuto in mente adesso quando Luciano parlava appunto di gente che comunque si farebbe il vaccino ma anche di tanta gente che probabilmente non lo fa mentre lo farebbe per altre cose o lo ha fatto per altre per altre malattie ehm qui passa forse il il messaggio grezzo cioè magari a chi non ha eh il lacume di di Luciano che siccome la cosa è un po' mh non è proprio eh convincente ti convinco dandoti dandoti dei soldi questo politicamente dal punto di vista dell'incentivo al a a vaccinarsi eh a vaccinarsi forse forse insomma non è non è eh non arriva infatti secondo me cioè rispetto a questo dovrebbe essere spiegato ovviamente non è alternativo a diciamo a tutti i motivi alle campagne di informazione che sono la parte principale che si dovrebbe fare ma andrebbe presentato come un ristoro per la perché poi il vaccino non è come dal medico di base che eh deciderai tu quando andare quando fartelo no eh lo chiami o porti a casa ma magari ma magari perché quest'anno manco questo esatto ma nemmeno che sarà diciamo una procedura in cui lo Stato diciamo attraverso le sue il commissario al cura e attraverso la struttura chiamerà una persona che un preciso giorno un preciso orario dovrà mettersi in fila eh dovrà essere puntuale dovrà fare il richiamo quindi c'è come dire se va presentato come il fatto che io ti rimborso del fastidio che tu dovrai rinunciare le tue normali attività perché dovrai fare questa prestazione solo e soltanto nel momento in cui lo stabilisco io mh diciamo va presentato in questo modo non ti pago perché devi vaccinarti eh ma per diciamo il fatto di sottoporsi a a diciamo a tutto un protocollo nei modi e nei tempi stabiliti ed essere preciso e puntuale che è un po' ciò che accade con quando avviene per le per le sperimentazioni in cui una persona si sottopone a tutta una serie di adempimenti in questo caso non è una sperimentazione perché già è stato sperimentato ma è un'organizzazione collettiva in cui tutti diciamo come un orologio svizzero e sicuramente ci sarà questo tipo di efficienza per fare in fretta e far presto dovremo si chiede si diciamo da un contributo alla popolazione perché dovrà sottoporsi a diciamo tutto un protocollo essere precisa essere puntuale ed essere sollecita perché come dire se c'è anche una forma di resistenza passiva e sui ritardi c'è anche un tema che questi vaccini che sono multidose hanno poche ore di durata cioè se non c'è la persona che deve vaccinarsi in quel momento in due ore scadono queste cinque dosi e quindi si perde anche il vaccino c'è anche un tema di efficienza appunto nel nel farlo e si dovranno evitare a sembrare non ci sarà la resta una folla di persone centri vaccinali perché rischerebbe diventare centri di contagio ma tutti dovranno essere quindi precisi e puntuali con il loro numerino eh a fare questa cosa quindi si chiede uno sforzo di questo tipo anche alla popolazione quindi va presentato in questo modo non come una una rimunerazione ma diciamo come un rimborso del fastidio diciamo e su questo l'importo fa la differenza io volevo soltanto fare una battuta che reputo importante perché solo ieri ho scoperto diciamo che l'articolo 2 della costituzione riporta la dicitura di obbligo sociale secondo me c'è un importante libro su cui a cui di cui consiglio la lettura a tutti che si chiama norms in the wild che è un libro della professoressa bicchieri cristina bicchieri che proprio parla e racconta di come nascono le norme sociali e dell'importanza delle norme sociali e di quando le norme sociali sono in contrasto coi benefici individuali e con quelli della società c'è il famoso esempio dell'india eh del fatto che la gente andava a cacare sempre all'aperto e quindi creava epidemie a un certo punto l'unione come si chiama le nazioni unite fanno un progetto per cui costruiscono bagni ovunque in tutte le zone rurali e i bagni vengono utilizzati come dispense perché sono belle pulite e la gente non può cacare fuori cioè il tema è che l'articolo 2 parla di obbligo sociale e secondo serena quegli obblighi sociali sono ciò che tengono insieme la società ma non è che siccome una cosa la indichi come un obbligo sociale viene eseguita perché se no il discorso non lo faremmo quello che viene eseguito è la norma sociale e la norma sociale in una secondo me dinamica abbastanza aiechiana viene dal basso e tu puoi scrivere tutti gli obblighi sociali che vuoi ma se la gente non gliene fotte di fare quelle cose perché non perché crede che non ci sia una sanzione della società della comunità del gruppo l'evasione in italia è elevata non perché ci possiamo mettere sanzioni obblighi sociali tutto quello che vuoi tu la gente pensa che alla fine fottere lo stato sia una cosa che tutto sommato non è sbagliata finché non c'è una sanzione della comunità che ti porta al di fuori dell'accettazione degli altri e quindi una norma sociale che diventa un obbligo solo se è accettato da tutti secondo me il tema si pone è quello del vaccino è un tema carlo volevi chiudere scusa non tiene insieme la società tiene insieme le regole è una cosa un po' diversa allora è diverso e tiene insieme le regole ma se le regole sono contrarie alle norme sociali noi ce ne stiamo fottendo vabbè è un'altra puntata se le regole ti impediscono di adottare delle soluzioni che promuovono in maniera chiara quello che sarebbe il bene comune chiamalo come ti pare io voglio fare un'altra osservazione ma ci porterebbe molto lontano quindi anche questa è un'altra puntata c'è il vaccino all'asta ecco per una strategia di allocazione luciano tu puoi fare quello che vuoi perché sei l'ospite della puntata un'obiezione unia vuole no c'è l'ospite educato rispetto alle regole di casa vabbè però lo è stato lo è stato dai ma un'obiezione mi avete accolto e presentato malissimo quindi diciamo benissimo ma veramente guarda che dovevo dovevo maltrattarti io alla fine sono quella che ti sta proponendo di farne una proposta serie l'unica che mi ha preso sul serie mentre altri mi presentavano ma un'obiezione che faccio io a me stesso è diciamo dell'effetto che può avere a livello come dire intertemporale a lungo termine cioè che poi rispetto alle prossime vaccinazioni grazie ma stavolta non ci pagate quello sto dicendo questo intendo quando dico tiene insieme le regole per potrebbe avere un effetto contropocente su tutte le altre vaccinazioni che normalmente la maggior parte delle persone fanno senza essere remunerati ovviamente qui ci avevo pensato a sta cosa diciamo la mia risposta è che questo è talmente un caso unico ed eccezionale che la prossima volta si mettono all'asta va visto va visto come come operazione di questo tipo perché è un obiettivo temporale ristretto ed è l'unica vaccinazione che chiede di farlo a tutta la popolazione in tempi strettissimi quindi visto come un rimborso per lo sforzo organizzativo diciamo siccome può può avere una giustificazione alle emergenze attenzione alle emergenze ci stanno catafottendo dentro casa appunto abbiamo detto fino adesso ma allora questo intendo quando dico che tengono in regole soldi per l'emergenza scusami gli obblighi sì e i benefici no per l'emergenza ma come ragioniamo cioè ma rispetto a diciamo anche questo rispetto al fatto di dover stare ancora chiusi in casa diciamo è vero che sarebbe anche questa una piccola eccezione ma come dire rispetto alla situazione attuale in cui tutte le regole sono state sovvertite o quasi diciamo è cioè si spera come dice menta ce ne catafottiamo delle regole ok giustificato chiudiamo chiudiamo perché io ho detto che ce ne catafottiamo delle regole scritte come se scrivendole perciò stesso dovesse essere rispettate questo è sbagliato non è un modo secondo me ma su questo siamo d'accordo ma lo so che siamo d'accordo e allora eh Carlo sigla e no sigla rima sigla dopo rima meglio l'obbligo o il bonus per convincere le persone a farsi fare il vaccino basta fare presto o gli articoli 16 e 2 li vediamo dall'abbaino pensare dal lumicino ma dal 2 2 non c'entrava una minchia però va bene in questo caso ma obbligato la serie o io ho ceduto la violenza non appalesare la tua ignoranza giuridica per favore l'abbiamo capito non appalesare vorrei fare una domanda a menta e capone quante volte in vita vostra avete usato il verbo appalesare capone sì io una variazione io una variazione a me sembra un utilizzo irragionevole dell'essico italiano assolutamente allora grazie va bene grazie a tutti grazie a Mimmo a Menta a Serena ringraziamo Luciano Capone prossimo commissario straordinario alla distribuzione del vaccino e lo ringraziamo per essere stato con noi e ricordati di noi quando sarai alla struttura commissariale e aspettiamo e aspettiamo i 100 euro per questa trasmissione grazie ciao a tutti ciao